Siamo uno dei 90 luoghi dove si celebrerà la pasta asciutta antifascista quest'anno. È l'AMPI, l'Associazione Nazionale dei Partiti degli Italiani della provincia di Pesaro Urbino, che organizza questa pasta asciutta antifascista, perché nel 25 luglio 1943 Papa Cervi offrì la pasta asciutta a tutta la cittadinanza. Il 25 luglio il Gran Consiglio del Fascismo aveva sfiduciato Mussolini, quindi praticamente era accaduto il governo, tutti festeggiavano questo grande avvenimento. Abbiamo circa 600 iscritti in tutta la provincia, come Ampi, e veramente partecipano delegazioni da tutte e otto delle sezioni, quindi noi siamo molto contenti, per essere la prima esperienza è veramente molto positiva. Le tagliatelle naturalmente sono il piatto principe di questa iniziativa, ma nel 1943 c'erano pochissimi mezzi, quindi le tagliatelle erano in bianco. Noi le proporremo con il ragù, quindi sarà quello il piatto principale. Seguono salsicce alla griglia, insalata, dolce, ciambellone, per cui vino, acqua, caffè, insomma. Durante la serata avremo delle letture di Lucia Ferrati, che leggerà delle pagine del libro scritto da Delmo Cervi, figlio di Mario. Il gruppo Sambene, un gruppo folk che suonerà anche musica e canti resistenziali. Noi abbiamo il patrocinio dei tre comuni più importanti della provincia, che sono il comune di Pesero, il comune di Fano e il comune di Urbino. Ne abbiamo otto sezioni sul territorio, che a parte Pesero e Fano, che sono le più grandi, abbiamo Urbino, Valmetauro, Valcesano, Gabicce, Montefeltro. Tutti quanti hanno nel loro territorio, hanno promosso la pasta asciutta e hanno fatto prevenita, per cui anche loro verranno con i loro associati, per cui è un momento per noi per stare insieme tra le sezioni e non solo, perché non è una cosa solo per noi, ma è una cosa chiaramente aperta a tutti, per cui avremo modo di incontrare tanta gente e questo insomma ci fa solo piacere. Saranno presenti anche sicuramente quattro partigiani, ancora viventi, ancora in Gambissima, meglio di noi stanno, e per cui abbiamo il piacere di avere anche questa memoria storica vivente ancora. Grazie. 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 Grazie.